Sei il signor maiale? No, sono il corvo laggiù Ciao Simone, sono il corvo Gennaro? Ciao Simone! Gennaro, aspetta! Gennaro! Ah! Sì, William! No, scappa Simone, si sperano! Eh! Papara, 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 papara Aia, oh! Oh, sono il cichiale io! Eh? Vuoi affrontare? Bravo! Bravo, vai via, bravo! Doh sto notando? Eh, sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi Simone diventeremo degli animali Ma come? Ne eravamo dei sit? No, oggi Simone ti insegnerò due cose Come diventare un animale E come ballare Ho sbagliato Ballare lo so già fare E poi è bravo d'arte Ho sbagliato e morto E ti insegnerò anche come balla l'impero Come balla l'impero? Ah! Inserisci il codice Pazzox all'interno dello shop di Fortnite Se vuoi supportare questo creatore Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video E tantissime nuove storie Allora Simone Voglio che tu mi trovi un cinghiale O non... Perché arretre Simone? Sono io il tuo capo Perché fai paura Meglio? Fai ancora più paura Gennaro Vado via No Simone Ecco il cinghiale Quello non penso sia un cinghiale Simone Oh io con sta cosa non ce vedo Non riesco a mirare Questo è il cinghiale Questo esperimento Questa scienza Quella di diventare un animale L'ho vista grazie a tante persone Che l'hanno twittato su Twitter E ho detto Devo assolutamente provarci Perché se succedeva davvero È fantastico Gennaro ti ho portato il lupo Grazie Simone È proprio il lupo che volevo Ecco il momento Della trasformazione Simone Altro che Beast Boy L'ho letto Dicono wow Cose così Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Simone Mi vedi? Gennaro? Mi vedi Simone? Gennaro? Simone? Gennaro dove sei? Sono qui vicino a te Simone Simone? Sei nel camion? Simone sono qui Simone Hai presente Pumba? Sei il signor maiale? No sono il corvo laggiù Ciao Simone sono il corvo Gennaro? Ciao Simone Gennaro a parte Gennaro Gennaro No non mi sparate Simone William dobbiamo trovare Gennaro È sparito Si è rimpicciolito Thatta Che poi non sento più i passi Sono il signor William cinghiale Lui tu bro Ma tu mi vedi sopra Il cinghiale O non mi vedi proprio? Io r…. Un cinghiale William Vorrei sapere Che fin ha fatto Gennaro Ah allora Non è niente C'è un altro cinghiale Simone Hai il cibo con te? Sì Allora La cosa che devi fare Lanci un pesce qui vicino allo scaletto Clopete, 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 clopete E mo metti subito il pesce lì E tu entri saltando nel camion Perfetto Aspetta Prova Ok, devi provare così spesso Ah, ti rovino il camion Simone Sta arrivando, eh Simone Gennaro? Simone, sì Simone, anche tu sei William 2 Fammi mangiare la carne tua Sento la tua voce, Gennaro, ma Che figlio ha fatto William? Vai Simone Tu sei William La natura Io sono William Simone, la natura, l'albero, ci chiama Andiamo insieme No, 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 aiuto Sentine la leggette Devi credermi No, scappa Simone Si spera e no Aia, oh, sono cigiale io Siamo dei bellissimi animali, Simone Io vedo pazzo laggiù Gennaro E' vero, pure io ti vedo lontanissimo Simone, che ci fai là? Devo raccontarti una cosa No Hai saltato due volte Questo è quello che succede Gennaro, ma sei tornato? Mio Dio Hai visto Simone? Sono tornato Adesso andiamo in partita Non ci crederei mai Ma William parla Hai visto? Ma dovrai fare una partita con William Simone Come con William? Ma è cediale Che scappa William Ce l'ho fatta Ho mangiato il pesce Devo andare subito Sif Ma è Gennaro Oddio, ma io mi trovo Sai dove mi trovo? Mezzo all'erba adesso Mangia di I pesce Scusa Sto morendo io la persona Non il cinghiale Non ce la farai mai Gennaro Che ne sai? Ah, è vero No, non voglio morire Da cinghiale Simone Simone Gennaro Butami in mangiare Non ce l'ho al mangiare Come? Sono appena uscito Cibo Ah Ho paura di te Io sono Darth Vader Hai capito? Ma che sei spaventato Ma che sei spaventato Vai via Eh? Vuoi raffrontare? Bravo Bravo Vai via Bravo Oh Ce n'è andato Gennaro E sono Darth Vader Simone Arrivederci Simone non ti girare Simone Ha quittato Ma no Mi ha quittato in faccia Io ho sparato all'ultimo Aiaoh Dai 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 Sì Alla prima botta Simone So fare pure il bagnetto Simone Perché io sono cinghiale Guardami come sono bravo Sento la tempesta Anche se non so Oh no Che ti la senti vicina? Perché il cerchio è più piccolo Sì 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 Sento che sono dentro la tempesta Ma in realtà non ci sono Simone mi senti uno che scorreggia a pinnacoli Mi sento come se io fossi il tuo companion di Monster Hunter Ma certo Gennaro Però sono surtrooper Aspetta devo mangiare Simone Gnam Ok Fame Simone Fame 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 Simone Fame Rimbalzo Un pesce Mangio Ma via di questo Simone Via di questo Così me lo devi tenere da parte Pesciolino blu Mangia di questi Ok grazie Gnam Letteralmente Roma Strade sporche Degrado I cinghiali di strada E' tutto così uguale Senti un altro cinghiale E' vero Mangia di altra carne Amico mio Mangio io Gnam No il mio parente Simone Mangio Sono pieno Sono pieno Prendi tu Eh non devo più far nulla Allora mangio Mangio Gnam C'è uno col cinghiale Aia Sparono al cinghiale Simone Sparono al cinghiale Vado via Vado via come un vero cinghiale Simone Non sento neanche gli spari Che tragedia Scappa Gennaro Levati 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 Sono dietro l'albero Io Simone Come la natura Mi fanno del male Ma sento deltaplani continuamente Ma che paura Ah il mio albero Aia Da dietro No No Non sento niente Benvenuto Gennaro Nel mondo delle persone Con problemi di udito O nei cinghiali con i problemi di udito Esatto No Chi è No Guardo solo a me Simone io scappo Simone io scappo Gennaro Simone io sto scappando Oddio Ora mi Mi sparano Mi sparano Mi sono sparando No No Che dire pazzotti Questo era il tutorial Su come diventare Un cinghiale Ovviamente Quando uscirà questo video Non sappiamo Se questo glitch Funzioni ancora Oppure è già stato pacciato Quindi se non funziona Sapete il perché Ma nel dubbio Non fatelo Per vincere Non l'abbiamo fatto Soltanto a scopo di divertimento A scopo di formazione Ma ovviamente Poi Siamo morti Come Delle Salsine Scadute Ma quindi Simone Prima di salutare i nostri amici Che cosa dobbiamo fare? Mangiare le grossatine di Gannar Che sono avanzate? No Simone Questo Che dire pazzotti No come al solito Ci vediamo con dolcissimo E carnissimo He hei Grazie a tutti. Grazie a tutti